Potrebbe essere un po' più vicina la svolta per il cantiere di via Fabio Filzi dove dovrebbe sorgere la nuova sede della Polizia Municipale di Arezzo. Le novità formali ancora non ce ne sono, però c'è stata un'interlocuzione importante con la proprietà che l'Istituto di Credito e il CREA hanno avuto un consiglio di amministrazione in cui hanno avvallato sostanzialmente una proposta condivisa e ci devono formalizzare. Ancora che io sappia, non lo so, non ho visto il protocollo se è stata formalizzata e quindi sulla base di questa formalizzazione di questa proposta che sostanzialmente prevede la sostituzione del soggetto esecutore con un nuovo soggetto che è già stato individuato e avevano già comunque i requisiti per poter fare lavori, una rimodulazione del quadro economico e quindi di tutto il piano economico finanziario e quindi anche lì la strategia è quella di ripartire. Siamo in linea, si tratta di limare un po' ancora degli aspetti tecnici e economici che sono stati già condivisi, però formalmente ancora no, però aspettiamo breve. C'è stato il periodo d'agosto e chiaramente anche la banca non aveva CDA di mezzo, l'ultimo è stato i primi d'agosto, quindi si aspetta la formalizzazione. È una storia lunga e travagliata quella del cantiere ex asilo. La struttura è di proprietà della diocesi, era stata acquistata da un raggruppamento di imprese con a capo una banca, poi ditte del settore edile. La nuova proprietà era legata al comune attraverso il leasing incostruendo. L'inizio dei lavori nell'autunno 2021, ma alcuni mesi dopo lo stop è la conseguente risoluzione del contratto per inadempienza con la ditta esecutrice dei lavori. Adesso forse la tanto attesa svolta, soprattutto dai residenti della zona, che avevano anche presentato due esposti per denunciare le condizioni in cui versa l'area.